in collaborazione con immagina qualsiasi posto nel mondo con noi puoi farlo certo sicuro da oltre 30 anni tessi veneta specializzata in cardati agugliati e non tessuti a valstagna tutto il buono delle specialità locali dal ristorante pizzeria al mondo e da non solo frutta a valstagna santo russo impianti termoidraulici assistenza immediata perfezione nel lavoro a bel vedere di pizze sul brenta alimentari e tabacchi di vialetto diego a campo lungo sul brenta agraria e fiori rossi carlo alfonso fiori per ogni occasione piante per il tuo orto e giardino attrezzature pellet mangini e bobole a gas a campo lungo brenta albergo ristorante con tarini da tre generazioni accogliamo gli ospiti con amore e per le tue pause nuovo angolo bc grill a campo lungo l'occhiale giusto per te da ottica montegrappa il tuo centro optometrico con macchi più prestigiosi da oltre sette anni una garanzia per la tua vista a mussolente ai piedi del massiccio del monte grappa nasce la val brenta una valle carica di storia di tradizione di bellezze naturali solcata dalle vivaci acque del fiume brenta qui si tiene una rappresentazione che richiama centinaia di turisti tutti gli anni nove sono le contrade che si porteranno per il famoso drappo rosso onore e banto delle contrade per tutto l'anno signori ho il piacere con questa puntata di periscopio di portarvi a bordo dal 33esimo palio delle zattere di bastagna sono qui con mauro argentin presidente della pro loco di bastagna buongiorno mauro ciao buongiorno anche voi della pro loco sempre ben organizzati come ogni anno ma quest'anno il palio si vede da un punto di vista tutto particolare tutto nuovo quest'anno io direi proprio di sì è un anno molto particolare un anno di cambiamento perché quest'anno come tutti sanno c'è stata la fusione dei comuni e c'è il comune unico di valbrenta quindi quattro comuni sono fusi e devo dire che con l'amministrazione comunale di valbrenta sindaco ferrazzale tutti gli assessori tutti gli amministratori abbiamo trovato un connubio eccezionale per poter svolgere al meglio il palio e per quanto riguarda la sicurezza per la sicurezza direi che anche quest'anno abbiamo raggiunto un connubio perfetto perché abbiamo sì la sicurezza in acqua abbiamo responsabile della sicurezza abbiamo un'organizzazione quindi di di trento e quindi ci aiutano con tutta la sicurezza in acqua abbiamo io anche ovviamente ci dà una mano per lui l'ivantim ci dà un grosso aiuto abbiamo tutti quanti volontari anche qui a terra che ci aiutano perfettamente tutti i volontari anche della protezione civile dei carabinieri quindi direi che ci siamo un grande lavoro grande lavoro perfetto allora andiamo a vedere la riuscita di questo grande lavoro grazie sono qui con giacomo lazzarotto del comitato palio buongiorno giacomo buongiorno buongiorno come nasce questo palio allora il palio nasce 33 anni fa da un'idea della provoco e nasce per ricordare un evento tragico che è il brentanon del 1851 e per ricordare un po la figura della zattiere che tanto insomma ha lavorato qui a valstagna quindi a noi piace come ricordare questa figura perché i nostri antenati vivevano di questo e ci piace ricordare le tradizioni ecco certo so che c'è anche un pre palio si esatto allora il pre palio è stato fatto una settimana fa sabato 13 luglio sostanzialmente sono due prove di abilità e il treno della slitta e il taglio del tronco sono prove che fanno decidere il posizionamento delle bandiere in centro fiume e molto importante perché poi a seconda delle traiettorie che si vanno a prendere nel fiume puoi avere dei vantaggi oppure no quindi sono veramente molto importanti e col taglio del tronco si decide la griglia di partenza quindi un po come la formula 1 san gaetano parte in pole position ha un po di vantaggio ma non è detto sono qui con ivan pontarollo dell'ivan team ma ciao buongiorno a tutti benvenuti al palio delle zattere voi date sempre una gran mano a questa manifestazione non solo la mano il cuore perché io i miei nonni da parte materna e paterna sono originari di bastagna dunque ho una forte legame col territorio oltre chiaramente ad essere anche un nuovo zattiero perché se ben sai io gestisco un centro di rafti in inglese significa zattera praticamente una forma moderna di trasporto sul fiume sono qui con camillo sasso storico della zona ciao camillo ciao mi racconti in breve la storia della val brenta la val brenta è sempre stata legata al fiume brenta che già da secoli c'era gli zattieri scendevano per per la valle c'erano milioni di tronchi che scendevano e il fiume erano le le autostrade di un tempo il brenta era uno dei fiumi più importanti per la discesa del legname ed ecco la sfilata storica che apre il 33esimo palio delle zattere di bastagna apre il gonfalone di bastagna seguono gli sbandieratori di feltre del quartiere santo stefano sono circa 30 persone a seguire le nove contrade di bastagna con zattieri e damigelle circa 60 persone ci sono poi il gruppo emigranti di bastagna con abbigliamento dei primi anni novecento e il gruppo arti per via si fermeranno circa 20 minuti adesso seguono i zattieri del brenta di bastagna gruppo di rievocazione storica con circa 6 persone infine il gruppo le arti per via museo itinerante con canti balli e attrezzature sono in tanti sono circa 60 persone la novità di quest'anno il vero e proprio valore aggiunto di questa manifestazione come con il sindaco di bastagna luca ferrazzoli buongiorno sindaco si buongiorno salve buongiorno un grande cambiamento in questa valle quest'anno con la sua elezione si è un grande cambiamento perché è il primo palio di bastagna con il nuovo comune di valbrenta è un momento importante perché questo palio è sempre l'occasione per manifestare un senso di appartenenza l'appartenenza a una comunità la comunità di bastagna le contrade ma anche per dire che le comunità non devono necessariamente coincidere con un comune ma più comunità possono avere un'istituzione più forte un comune più preparato e pronto a dare risposte alle esigenze dei cittadini a manifestazioni come queste certo questa sì una grande manifestazione ma voi avete delle bellezze avete dei doni innumerevoli in questa valle sì sono innumerevoli e però occasioni come queste ci danno la possibilità di renderle notte al grande pubblico diventano un'occasione di sviluppo di promozione e di sensibilizzazione e quindi per noi sono fondamentali certo mi hanno detto che il t si espande anche a bassano e comuni limitrofi non è più solo un tifo inerente alla stagna vero no no è un tifo le persone si appassionano a questa manifestazione scegliono a che contrada tifare anche perché poi nel corso della settimana ci sono tutta una serie di manifestazioni delle contrade quindi si accorpano con molta passione eccoci qua quei vincitori della scorsa edizione la contrada costa collicello inutile dire che voi gareggiate per la vittoria anche quest'anno per forza assolutamente ma cosa vuol dire per voi correre una gara di questo tipo cioè per noi vuol dire tanto perché anche perché ti viene a ricordare il nostro amico che corriamo sempre per lui ogni anno che da due anni che è mancato sì chi è Matteo Cavalli per noi questo è un'emozione vedo che sei ancora emozionato perché come posso dire ce l'abbiamo sempre in zattera con noi anche ogni difesa ogni prova lui è sempre con noi quindi per noi lo funzioniamo per lui ogni anno ciao ragazzi allora rifaccio la domanda chi sono i favoriti per quest'anno contrada l'onda perché siete voi ma cosa siete disposti a fare se vincete mi sono rosato i capelli per tagliare l'aria dopo me li rasso tutti se vinciamo ma ho sentito altre cose se vinco colore la macchina di rosso cioè colore della mia contrada io niente ti aggravi a lui e allora ragazzi vinca il migliore va bene ciao ciao il palio delle zatter di Udastagna è una gara di velocità sull'acqua che prevede tre partecipanti in costume storico della contrada di appartenenza per ogni imbarcazione con il solo utilizzo di remi in legno sul percorso fluviale i vincitori conquisteranno un drappo di veiuto rosso recante lo stemma del comune edizione davvero speciale questa del trentatresimo palio di Udastagna sotto si può dire un diluvio universale giove pluvio si sta scatenando ecco questa manifestazione che vede sfidarsi le nove contrade di Udastagna sotto la pioggia oliero l'onda piazza san marco torre mori fontoi san ghitan san so stefani giaramodone costa coligello eccoli qua i primi stanno arrivando a prendere il drappo sotto sotto una pioggia veramente torrenziale la difficoltà è tanta eccoli a vincere saranno gli zattieri che a bordo delle rudimentali imbarcazioni percorreranno questo tratto suggestivo sotto la pioggia e panoramico del fiume prenta nel miglior tempo possibile i primi a raggiungere il traguardo conquisteranno naturalmente l'abito trapo di velluto rosso recante lo stemma di Vastagna il trentatresimo palio va a questa contra contra san caletano Massimo Andreoli presidente CERS buonasera presidente buonasera a voi Vastagna sarà promossa a livello europeo quando? allora Vastagna dopo un percorso iniziato cinque anni fa con la mia prima presenza qui è un percorso che l'ha fatta già entrare tra le manifestazioni ufficiali della regione del Veneto compierà un nuovo passo il prossimo anno con la domanda di attesione appunto al consorzio europeo rivocazioni storiche su cui sono presidente e anche quest'anno è stato il fiume il giudice della sfida decretando la vittoria della contra san gaetano con emozioni che solo a Vastagna si possono trovare grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia noi vi diamo appuntamento la settimana prossima con una nuova puntata di Periscopio vi ricordo che se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.rettaveneta.it nella sezione produzioni grazie buona serata lungo la statale 47 a pochi passi dal centro di Rosà troviamo la sede della Listrop viaggio e turismo qui potrò farmi cucire addosso un viaggio su misura per me ma soprattutto senza sorprese ma andiamo a vedere come buongiorno signor Paolo buongiorno Ida benvenuta che bella cosa perché un viaggio dei vostri è senza sorprese? perché noi siamo stati lì per voi a verificare tutti i servizi come si fa a costruire un viaggio su misura? prima cosa sapere ascoltare i clienti conoscere il prodotto che si propone terza cosa creare un'organizzazione affidabile signor Paolo potete accontentare qualsiasi cliente qualsiasi richiesta vi venga formulata certamente viaggi di nozze viaggi individuali soggiorni al mare in qualsiasi parte del mondo business travel quindi per gli uomini d'affari qualsiasi biglietto aereo e inoltre noi pubblichiamo due volte all'anno un catalogo con proposti in pulma e in aereo in tutto il mondo l'Eastrop 30 anni di esperienza al servizio del cliente in collaborazione con immagina qualsiasi posto nel mondo con noi puoi farlo certo sicuro da oltre 30 anni Tessi Veneta specializzata in cardati agugliati e non tessuti a Valstagna tutto il buono delle specialità locali da ristorante e pizzeria al mondo e da non solo frutta a Valstagna Santo Russo impianti termoidraulici assistenza immediata perfezione nel lavoro a Belvedere di Tizze sul Brenta alimentari e tabacchi di Vialetto Diego a Campolongo sul Brenta agraria e fiori Rossi Carlo Alfonso fiori per ogni occasione piante per il tuo orto e giardino attrezzature pellet mangini e bomboli a gas a Campolongo Brenta albergo ristorante Contarini da tre generazioni accogliamo gli ospiti con amore e per le tue pause nuovo angolo bici grill a Campolongo l'occhiale giusto per te da Ottica Montegrappa il tuo centro optometrico con i macchi più prestigiosi da oltre sette anni una garanzia per la tua vista a Mussolini